Tra sviluppo e progresso, tra le due parole c'è una differenza enorme e tutte le polemiche che sono nate in seguito a alcune cose che io ho scritto in realtà si basano proprio su questo equivoco, cioè confondere lo sviluppo con il progresso e invece sono due cose non soltanto diverse, ma addirittura opposte e per quel che riguarda nella fattispecie questo concreto momento storico addirittura inconciliabili. Infatti questo sviluppo, non parlo del sviluppo in generale, ma questo storico sviluppo chi è che lo vuole? Lo vuole la destra economica, non parlo nemmeno della destra ideologica o del fascismo, no, parlo proprio della destra economica. Ed è a questo punto che io uso il potere con le P maiuscole in un modo forse un po' estetizzante e vagamente mistico, perché è evidentemente difficile definire quale sia oggi il potere reale. Anziché chiamarlo potere con la P maiuscola chiamiamolo pure i nuovi padroni. È chiaro però che questi nuovi padroni non corrispondono più perfettamente a quelli che noi siamo stati abituati a considerare padroni da molti anni a questa parte, o perlomeno che io consideravo padroni quando ero ragazzo, poi quando ero giovane, poi quando ero nella piena maturità. Sono cambiati questi padroni e questi nuovi padroni vogliono lo sviluppo. Lo sviluppo, almeno qui in Italia questo sviluppo, vuole la creazione, la produzione intensa, disperata, ansiosa, smaniosa, di beni superflui. Mentre in realtà coloro che vogliono il progresso vorrebbero invece la creazione, la produzione di beni necessari.